Correre nelle terre estreme, quelle più calde e quelle più fredde del mondo, come è stata questa esperienza? Sicuramente è stata un'esperienza bellissima sotto l'aspetto umano e sotto l'aspetto scientifico visto che sono e siamo con il mio team riusciti a concludere questi due progetti con questi due record del mondo ognuna ha una difficoltà intrinseca, il grande caldo comporta problematiche di idratazione e di conseguenza disidratazione il grande freddo invece comporta problematiche di respirazione e di sudorazione perché anche a meno 50 si suda Ecco, esattamente che itinerari hai fatto? Allora, il grande caldo, ho battezzato così questa impresa Maximum Temperatus ovvero tentare di correre nel luogo più caldo del mondo nel periodo più caldo dell'anno il luogo più caldo del mondo è il deserto del Lut in Iran dove circa sei anni fa sono state registrate le temperature più alte di tutto il pianeta Terra parliamo di temperature sopra ai 70 gradi, sopra lo zero ovviamente e abbiamo scelto le settimane che statisticamente sono le più calde, ovvero quelle di metà luglio e quindi il 19 luglio 2017 ho corso 75 chilometri con la temperatura massima di 67 gradi che oggi rimane un record del mondo E per quanto riguarda invece l'esperienza più fredda? Il freddo ha così comunicato cose che fino al 20 gennaio ultimo scorso nessuno sapeva in effetti non esistevano ricerche medico-scientifiche che dicessero se un uomo poteva o meno correre a temperature così basse qui stiamo parlando del luogo abitato più freddo del mondo il polo del freddo, così viene chiamato, il triangolo che unisce tre paesi della Repubblica di Sakha-Yakutia ovvero Agayakan, Oimiakon e Tomtor e io ho unito due di questi paesi che distano 39 chilometri circa uno dall'altro correndo con una temperatura di 52 gradi, virgola 6 sotto lo zero Ecco, qual è il segreto per portare a termine imprese così estreme senza perdere la salute e nemmeno la testa? Beh, innanzitutto la programmazione non si inventa niente un anno e sei mesi di progettazione, di esperimenti, di test per andare a correre in Siberia Nord-Orientale un team di supporto di primo ordine, quindi Medicina dello Sport e dell'Università di Padova che ha seguito tutta la mia preparazione e monitorato tutte le mie reazioni sia al caldo che al freddo e poi tanta determinazione, bisogna porsi degli obiettivi, obiettivi che vanno pianificati, vanno preparati e poi mettersi in gioco e provare a sfidare quello che prima nessuno aveva mai sfidato Ecco, tutto questo l'hai fatto come appartenente al gruppo sportivo della Polizia di Stato? Una grande responsabilità perché in Siberia non c'era solo Paolo Venturini che correva ma c'era la maglia e la scritta Polizia di Stato con il nostro tricolore e quindi tutto il mondo ha seguito questa impresa pensate alle 9 del mattino quando sono partito avevo tre troupe televisive una italiana, una russa e una giapponese che sono venute a vedere cosa succedeva in questa remota località del mondo e quindi una, diciamo così, carica di responsabilità molto molto importante Grande onore perché dopo aver tagliato questo traguardo il governo della Repubblica di Sacca Iacuti ha voluto che il tricolore che ho stretto in pugno quando sono arrivato fosse firmato con tutti i dati dell'impresa e fosse esposto per sempre nel Museo di Storia Nazionale della Iacuzia per me è un grande onore Grazie mille Grazie a voi, un saluto a tutti